E' ripresa ieri pomeriggio la preparazione atletica della SEAP Palavolo Aragona in vista della prima gara della finale play-off per la promozione in Serie B1 di sabato 1 giugno alle 18 al Palanicosia di Agrigento. Il morale della formazione bianca-azzurra è altissimo dopo la vittoria in gara 2 sul campo della Dispori. La squadra del presidente Nino Di Giacomo ha centrato la qualificazione alla finale sbancando con merito il pala Panzani di Ladispori dove le ragazze hanno superato le agguerrite padroni di casa al termine di una partita lunghissima e avvincente. Le ragazze bianca-azzurra e gli ordini di coach Paolo Collavini si alleneranno per l'intera settimana anche con doppie sedute di lavoro giornaliere per arrivare al top della condizione fisica alla sfida di sabato contro il forte Grotte Volley Castellana. La partita sarà diretta dal primo arbitro Giuseppe Cutri di Roma e dal secondo arbitro Giulia Peluchini di Verona. Il match di ritorno è in programma mercoledì 5 giugno alle 20 al Palagrotte di Castellana Grotte in provincia di Bari. L'eventuale gara di spareggio è in calendario sabato 8 giugno alle 18 nuovamente al Palasport Vipo Nicosiede Agrigento. La SEA Paragona confida molto sul pubblico per cercare di vincere gara 1 e mettere una serie a ipoteca sulla promozione in terza serie. Il presidente Nino Di Giacomo ha voluto lanciare un appello ai tifosi e agli appassionati di pallavolo. Ringrazio tutti coloro che sono venuti alla prima sfida di semifinale playoff contro il Ladispori. È stato un pubblico incredibile e meraviglioso che ha incitato le nostre ragazze già dal riscaldamento e fino alla fine. Sabato 1 giugno ci dobbiamo ripetere perché l'impresa di approdare in serie B1 la stiamo toccando, la stiamo vivendo intensamente. Chiedo ai tifosi, conclude il presidente Di Giacomo, di riempire il Palazzetto Nicosia perché noi abbiamo bisogno di loro. Intanto domani alle 17 si terrà la conferenza stampa di presentazione di gara 1 della finale playoff per la promozione in serie B. All'incontro con i giornalisti che si terrà presso la sala stampa del Palasport Vipo Nicosiede Agrigento. In questo momento saranno presenti l'allenatore Paolo Collavini, Ilenia Cammisa schiacciatrice e Valentina Biccheri opposto della SEP Pallavolo Aragona. In questa occasione il tecnico illustrerà la sua strategia per poter regalare il sogno promozione ai tifosi e alla società.